Quando sei arrivata? T'è un paio di giorni. E com'è che ti si vede solo ora? Sei bipolare? O se si va compulsiva? Sei solo una tossica di merda. E basta! Che cazzo? Il sindaco! Vogliono fare un festegrale. Attraversiamo il deserto. Dieci minuti tutti i giorni prima del TG. E disse solo un poco poco di smorzare i toni. E sempre stesse. Hanno già mandato una bozza di precontratto. Ho controllato, è tutto a posto. Una filmetta e parte alla pratica. Dai. Grazie. Fammi il bersaglio vivo, corri un po'. Io? Dai corri, fai il bersaglio vivo. Dai! Zigzag, dai, dai! Sweetie, don't stress, no drama. Or else you get... Worry lines. Eclissati! Tutti i programmi del mattino sono senza scenografia. Coco è il municipio e la Gisella aspetta la questura, eh? Oh, ma dai coglioni! Nella cartellina le ho evidenziato col giallo tutti i passaggi che il sindaco le ha suggerito di fare per il discorso di scuse. Ma smettitele, prenditele, stanno qui, no? Prenditele, dai, prenditele. Tra i due litiganti. Che stronza. Non, 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 non! Non! Dove! No! Grazie a tutti.